Sono passati cinque anni dalla tragedia avvenuta proprio il 3 ottobre a largo dell'isola di Lampedusa. 368 persone, in gran parte ritrae in fuga dal regime del loro paese, morirono in mare. All'indomani di questi fatti venne istituita una giornata nazionale in memoria delle vittime dell'immigrazione e dell'accoglienza. Una giornata che ieri come oggi chiama tutti a riflettere su questo fenomeno migratorio che deve trovare non una soluzione ma un cambio di mentalità. Basti pensare che dal gennaio del 2014 al 20 settembre di quest'anno sono morti in mare o disperse 17.000 migranti mentre tentavano di attraversare il Mediterraneo. Quindi ricordare vuol dire tenere presente che questa realtà continua. Quello che mi sembra estremamente grave è che chi ci governa oggi si vanta di poter dire che sono diminuiti gli sbarchi. Mi sembra assurdo dire questo perché si sa molto bene che appunto queste persone continuano a morire in mare. E infatti nonostante nel corso dell'ultimo biennio ci sia stato un considerevole calo degli sbarchi di migranti sulle coste europee rispetto agli anni passati dovuto soprattutto agli accordi con la Turchia prima e con la Libia successivamente il tasso di mortalità è aumentato. Serve cambiare le regole che regolano questo fenomeno? Sì io penso proprio ci troviamo di fronte a un impasse diciamo burocratico legislativo che non permette a quelle persone che vengono da noi fuggendo da situazioni di disperazione di potersi inserire e integrare. E quindi quello che sta succedendo a Mimmo Lucano il sindaco di Riace ha messo gli arresti dei decennari domicili perché ha trasgredito delle leggi ci fa capire che è ora di cambiare la bossi fini di cambiare queste leggi che impediscono a questa gente di potersi inserire gradualmente sapendo poi molto bene che abbiamo bisogno di loro. Abbiamo bisogno perché da noi ecco non c'è una crescita demografica anzi al contrario sempre di meno diminuiamo e abbiamo bisogno di persone nuove che vengono e questi vorrebbero lavorare non possono fare niente vengono messi in questi centri di accoglienza in attesa che vengono regolarizzati semmai verranno regolarizzati quando invece potrebbero in breve tempo inserirsi nella comunità e dare un grande apporto non solo economico ma anche alla nostra società.